Nel 2021, grande fuga dei medici dagli ospedali pubblici, 2.886 medici ospedalieri, il 39% in più rispetto al 2020, hanno infatti deciso di lasciare la dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale e proseguire la propria attività professionale altrove. Emerge da uno studio realizzato dal Sindacato dei Medici, dirigenti a Nao Assomed, presentato alla Conferenza Nazionale sulla questione medica organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri. Nel 2021, la media nazionale dei medici dipendenti che hanno deciso di licenziarsi è stata del 2,9%, abbondantemente superata dalla Calabria e dalla Sicilia, 5,18%. La Lombardia, che era già oltre la media italiana nel 2020, aumenta ancora i suoi dimessi del 43%. La Liguria, in un anno triplica i medici che si dimettono, la Puglia passa dal 2,4% al 3,29%. Una fuga senza precedenti, da regioni costorie, organizzazioni e realtà sanitarie completamente diverse, ma unite da un comune sentire, afferma la Nao. I medici non vogliono più lavorare in ospedale e se ne vanno. Cosa cercano? Cercano orari più flessibili, maggiore autonomia professionale, minore burocrazia. Cosa cercano?